Ciao ragazzi, ecco, come promesso, stamattina mi è arrivato subito anche il pacco di Veroshet quindi non vi attendiamo a girare quello di Avon che oggi è arrivato quindi il pacco in questione è questo e apriamo e la carta la fattura ok, ah, qui c'è il nuovo album, per me, album 12 indizioni e prodotti, che sono? allora, mi hanno ordinato questo gel crema doccia all'avena biologica un altro all'avena biologica, questo però per me è perché l'ho finito, mentre ero in ferie ho usato questo e è andato via tutto poi mi hanno ordinato questo qui, che è quello al cocco deve essere buonissimo, adesso sento l'odore perché è del mio amoroso, l'ha ordinato lui fantastico anche questo sembra proprio da mangiare poi mi è stato ordinato un gel doccia alla lavanda, lavandina di Provenza poi mi hanno ordinato un balsamo all'avena un deodorante sempre alla lavanda qua mancano dei prodotti però non so perché shampoo all'avena ecco, c'era il set da 2 a 5 euro in offerta, quindi 2 all'avena poi un'altra set all'avena che però questo l'ho preso per me questo nuovo l'ho preso da provare ed è praticamente lo shampoo ai semi di gombo che sarebbe per disciplinare i capelli e lisciarli ecco questo qua, nuovo poi io ho ordinato anche sempre con le offerte a 5 euro due di questi shampoo qui shampoo alla camomilla per schiare i capelli e poi mi hanno ordinato una crema rich cream questa qui da giorno antirughe benefica e trentoli preziosi poi mancano altri 4 prodotti che adesso voglio controllare la fattura che erano gli shampoo per i capelli bianchi che sono quelli che fanno le mesh effetto argentato e adesso voglio controllare perché forse era una rischio rottura ma sono arrivati, non lo so allora che strano allora crema antirughe alvena ok, gialdoccia shampoo riflessi d'argento 2R cosa vuol dire non c'è il prezzo quindi non è arrivato balsamo nutriente 1 salt shampoo nutriente ok shampoo si comunque dovevano arrivare shampoo riflessi dorati da 200 ml e qui non c'è proprio segnato un bel niente quindi vuol dire che sono finiti probabilmente sicuramente dovrò riordinarli comunque per il momento è tutto praticamente questi sono i prodotti ordinati dai miei clienti alcuni presi da me appunto gli shampoo all'avena e mi hanno approfittato delle offerte perché questi sono sempre buonissimi nutrienti ammorbidiscono i capelli e non li appesantiscono quindi riconsiglio a tutti questo qui e niente praticamente poi ho appunto ripreso questo qui all'avena perché è fantastico ha un profumo buonissimo e nutre la pelle secca quindi sotto alla doccia ed è da 400 ml è una bella boccia però io in 12 giorni l'ho finita praticamente al mare perché tutti i giorni facevo la doccia è fantastica niente questo è tutto ora vi saluto perché devo rientrare a fare tutti i miei lavori sono appena tornata dalle ferie questa settimana sono un po' impegnata perché devo lavorare e perché devo mettere a posto casa perché mi sono iscritta a scuola guida quindi ho da fare devo fare dei giri e quindi così ci vediamo praticamente al prossimo video appena riuscirò vi mando un bacione ciao